Ancora in diretta nostra compagnia per lo spazio dedicato alla letteratura oggi però è particolare perché lo affronteremo attraverso delle note musicali perché quello che tra poco vi presenterò non è soltanto uno scrittore ma è anche un musicista e ha intrapreso un viaggio importante un po' rimanda al sogno americano, un po' qualcosa di rivisto nella chiave moderna sto parlando di Viaggio in Texas di Damiano Davide che saluto, buongiorno Damiano Buongiorno a tutti, dunque sì, in realtà mi fa ancora strano sentirmi dire scrittore anche perché questa è la mia prima esperienza con un romanzo perché sono musicista fondamentalmente ho sempre fatto questo tutta la vita, ho studiato pianoforte, composizione, direzione d'orchestra e il mio lavoro è questo, io lavoro in teatro come maestro collaboratore, mi occupo di opera lirica però ho sempre subito questo fascino dell'America anche per la musica popolare, per tutti i film insomma è un po' un sogno di gioventù, in adolescenza si sognano questi spazi aperti su una macchina con la musica americana Devo dirti anche nella maturità anche nella maturità insomma non c'è straneo questo desiderio di viaggiare si immagina un po' questa alla Tom Briner, perdonami alla Easy Rider in motocicletta oppure magari in un'auto questa volta però tu l'hai fatto attraverso un furgone attraverso un furgone perché il viaggio è molto particolare si tratta di un viaggio, un tour musicale fondamentalmente con un gruppo di amici che hanno un gruppo che suonano musica folk, bluegrass paradossalmente sono napoletani ma suonano la musica americana e sono andati lì tante volte, si chiamano la terza classe e sono miei grandissimi amici e a marzo mi hanno chiesto dai vieni anche tu io avevo un periodo di pausa dal lavoro un momento un po' particolare della mia vita, un po' delicato così ho detto va bene dai vengo con voi e quello che è venuto fuori è un viaggio unico, un viaggio che nessun turista può mai fare perché si va in dei luoghi che altrimenti non raggiungeresti mai e quindi è venuta fuori questa avventura perché è veramente un'avventura in questo stato, il Texas il Texas non sono gli Stati Uniti, lo dice anche Steinbeck il Texas è particolare, è veramente unico e ora che ho visitato anche altri posti, altri luoghi degli Stati Uniti posso confermarlo, è qualcosa di veramente particolare e di molto affascinante guarda stai stoccando la mia sensibilità di viaggiatore perché sono molto abbezzo a questo genere di avventure direi che questo libro è anche un po' una testimonianza tangibile bella perché del fatto che la creatività sia un po' multiforme tu sei un musicista adesso scrivi ma vedo anche delle foto che restituiscono delle sensazioni molto belle e importanti questo mi ricorda un po' quelle zone di transizione quei momenti di transizione della sera e quando viaggi da solo ti fermi un attimo a pensare ci sei soltanto tu c'è un po' una sorta come dire se non di paura di timore nel viaggio che si sta interpretando ma c'è anche di conseguenza anche il fascino che si subisce anche da una sensazione di solitudine in un viaggio importante insomma è bello sono delle belle emozioni, delle belle sensazioni che ovviamente hanno molto a che fare con la creatività credo perché foto, scrittura, musica che dici? beh direi di sì, innanzitutto anche un musicista ha a che fare con le storie ogni giorno la storia, la narrazione è la parte più importante di qualsiasi forma artistica io in questo caso ho provato innanzitutto a scrivere un diario di viaggio ma l'esigenza è nata proprio per il racconto dell'esperienza quando sono tornato in famiglia, gli amici mi chiedevano allora com'è stato questo viaggio ti sei divertito, che cosa hai visto, come gli incontri ed era, devo dire la verità, era difficile raccontarlo come volevo e come meritava di essere raccontato quindi ho provato in questo caso a scriverlo con calma e a inserire tutto quello che era successo perché di cose ne erano accadute veramente tante certamente trasparirà da questo libro più che i racconti di cose fatte delle sensazioni che il viaggio restituisce al viaggiatore soprattutto se è singolo perché è una cosa quasi magica che si prova soltanto in viaggio grazie, grazie a Damiano Davide viaggio in Texas il musicista, scrittore qui oggi puntuale al salotto di mattina 9 grazie a voi grazie per essere stato in nostra compagnia dopo la pubblicità non perdete l'intervista a Lucchè che è un rapper molto interessante andiamo in pubblicità poi l'intervista vediamo grazie a tutti